avanza qualche cosa stavo facendo nei lavori mi sono rimaste le forbici volanti stasera testimonianze di una vita con un piccolissimo aneddoto allora premessa io a scuola mi distraevo continuamente sia le elementari che alle medie che alle superiori indistintamente perché comunque a volte veder passare entità fumetti e cose varie non è proprio proprio semplicissimo non cacarli e prestare attenzione alle lezioni se poi la materia mi interessava un minimo di attenzione evitando di guardare chi passava e chi non passava riuscivo anche ad avercela ma se la materia la trovavo anche già noiosa di mio era finita non la cacavo proprio era più forte di me come ho già raccontato in un altro video una volta all'elementari che ancora ero piccola quindi comunque quando arrivava un'entità e mi parlava io non è che ci facevo molto caso mi mettevo lì e ci chiacchieravo e il mio maestro dell'elementari dopo che disperato mi aveva dato 897 note perché chiacchieravo mi mise nel banco da sola mi beccò a parlare lo stesso e mi scrisse l'ennesima nota mia madre se la ricorda ancora me la rinfaccia tuttora che ho 46 anni sono passati 40 anni e lei mi rinfaccia ancora quella nota la sveva parla anche da sola comunque tralasciando il discorso degli elementari approdando alle medie iniziai a seguire ma già un po prima iniziai a seguire la moda metal tra il metal e il dark però ero anche abbastanza attratta al punk parlo degli anni 80 oggi come oggi potrei definirmi got punk come gusti all'epoca il got non c'era gli emo non c'erano all'epoca c'era il dark il punk metal e i paninari o gli yuppies ma a me la gente in giacca e cravatta non è mai piaciuta moltissimo come abbigliamento e quindi non li consideravo proprio come tipo di vestiario a me se mi è piaciuto il nero se mi è piaciuta la pelle le borchie i capelli colorati anche se ancora non si potevano fare non esistevano sti colori e via dicendo ascoltavo io ho sempre ascoltato tutta la musica che mi garbava non ho mai avuto un gusto di musica particolare livello di abbigliamento sì abbigliamento io sono sempre stata gli ho detto attratta come dicevo prima dal metal dal dark moltissimo in generale dal da quello che oggi viene definito gotico o dalla pelle dalle borchie da ciò che era definito che dava l'impressione della durezza le moto quello ancora adesso sono attratta da queste cose ma a livello musicale ascoltavo praticamente tutto nel senso che se una canzone mi piaceva la ascoltavo che fosse metal che fosse punk che fosse inglese che fosse italiana che fosse araba che fosse napoletana che fosse io ero capace di sono tuttora capace di passare dall ascoltarmi i profumi valocchi a passare sulla sigla di ditan 3 poi saltellare su un jeans e una maglietta di nino d'angelo per poi ascoltare gli iron maiden o buttarmi su achille lauro e poi tornare magari ad ascoltarmi decidenci le vuoi perché comunque non ho mai guardato né al cantante e né al tipo alla tipologia di canzone se mi piaceva quella canzone la ascoltavo non avevo dei cantanti preferiti anche se c'erano e ci sono tuttora dei gruppi ma in particolare negli anni 80 di più c'erano dei gruppi che mi attiravano maggiormente a livello musicale a livello sonoro erano quasi tutti gruppi di hard rock melodico e i miei gruppi preferiti dell'epoca tra i tanti erano gli europe i bon jovi che ascoltavo proprio per lo più quasi tutte le canzoni i guns and roses e isky draw alice cooper ozzy osbourne e poi anche canzoni di altri come il cinderella come mister big come moltissimi altri in inglese andavo discretamente bene proprio grazie al fatto che avevo la fissazione di cercarmi nelle varie riviste perché all'epoca internet non esisteva ancora stava cominciando a nascere per gli uffici ethernet ma era altra cosa ma noi i poveri pivelli delle medie non sapevamo nemmeno cosa fosse e avevo l'abitudine di cercarmi i testi nelle varie riviste ricordo che compravo h&m heavy metal kids heavy metal varie riviste e c'erano appunto i testi delle canzoni ce n'era una in particolare che in quel periodo lì mi aveva preso tantissimo e tuttora mi piace tantissimo che è una canzone degli skid row che si intitola 18 and life e gli avevo l'abitudine quando una canzone mi prendeva tanto di mettermi lì col dizionario e tutto e tradurmela anche come per le altre era l'88 mi pare quindi ero in terza media presi il testo di 18 and life e iniziai a tradurmelo arrivato a un punto della frase perché adesso io devo devo arrivarci se no non me la ricordo però dice e non riusciva a tradurre questa frase perché se la traducevo con il vocabolario mi veniva fuori letteralmente e lavorava il suo osso del dito che non aveva nessun senso in italiano non c'era ripeto la possibilità di fare ricerche come oggi al che decisi di andare a chiedere alla professoressa d'inglese a scuola quindi mi portai il testo con la traduzione e tutto e poi gli dissi prof senta un po' ma qui mi viene fuori e lavorava il suo osso del dito cosa sbaglio in sta traduzione? e lei legge la frase e mi dice ma in effetti vuol dire quello però non so cosa voglia dire sarà una forma di slang lo slang è il modo di parlare per lo più americano non inglese che utilizza dei modi di dire praticamente che però tradotti letteralmente non possono essere compresi da chi sta traducendo come quando noi in italiano diciamo che ne so quando qualcuno per esempio si mischia troppo in una situazione e poi rischia qualcosa noi usiamo dire il proverbio tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino ma se lo traduce un inglese quella frase lince capisce una fava e presumibilmente la prof mi disse sarà un modo di dire in slang americano niente me l'è rimasta sta fissa qua finché poi una sera mentre per la 288esima volta ascoltavo la canzone che peraltro so ancora tutta memoria nelle cuffiette con mia sorella che non mi voleva far sentire le cuffiette in camera perché il walkman faceva cr 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 mentre girava e a lei dava fastidio e mi buttavo fuori dalla camera da letto perché dormivamo assieme allora io cosa facevo prendevo cuscino coperta annessi e connessi le mettevo nella vasca da bagno e mi sdraiavo nella vasca e poi mi addormentavo pure lì mi alzavo la mattina crottacciaccata però perché io volevo addormentarmi con la musica nelle orecchie sempre a prescindere e appunto senti mentre ascoltavo le parole una voce quasi scocciata però non vedi chi fosse che mi disse significa che si girava i pollici che non faceva niente che era disoccupato quasi incazzato e io disse ma e io che ne so sono mica americana che so cosa significa he worked fingers to the bone però avevo le cuffie quindi non mi resi conto dell'altezza della voce che facevo e mia sorella ma che razza di canzoni senti che stai parlando e parlottando e io vabbè tanto a loro era inutile stare a dire mi sono affogata con chi parlavo con chi non parlavo quindi ho rinunciato ed è finita lì andai poi a scuola e lo raccontai anche alla prof però non gli dissi che me l'aveva detto una voce mentre ascoltavo la canzone gli dissi che mi avevano detto alcuni amici che appunto la traduzione diciamo del significato di quella frase gli americani la utilizzavano come per dire che si girava i pollici quindi che non faceva niente che giocherellava con le dita e finì lì passò un po' di tempo e mi venne la fissa sempre per le mie traduzioni di un'altra canzone che in quel periodo lì mi piaceva tanto e volevo appunto capire il significato anche in quella canzone che era Close My Eyes Forever cantata da Ozzy Osbourne e Lita Ford c'erano delle frasi due o tre non vi sto a cantare la canzone ma che appunto non mi suonavano e nuovamente la stessa voce ma era passato qualche mese la stessa voce dove però non vedevo chi fosse mi ripete di nuovo quasi incazzata la traduzione perché cominciai a dire niente niente mi rispondesse anche quando c'ho da fare qualche cosa di scritto qualche traduzione a scuola che non riesco a fare e così tentai di pensare perché comunque se era un defunto era telepatico perché i defunti sono telepatici mentre invece angeli, demoni eccetera non sono telepatici e appunto in maniera telepatica quindi col pensiero cominciai a chiedere informazioni su alcune frasi che stavo traducendo peraltro in un compito in classe mi pare e sta voce mi rispondeva anche ho detto vai che quest'anno l'inglese a scuola non ha più segreti per me dura poco un mese un mese e mezzo poi questa vocetta qua non mi rispose più e scomparve arrivata alle superiori e avendo sia inglese che francese e all'epoca francese proprio non mi entrava poi crescendo l'ho imparato ma probabilmente era perché proprio non sopportavo la professoressa di francese che avevo perché era una persona estremamente brutta caratterialmente antipatica snob una brutta una bruttissima persona io ho sempre avuto dei bellissimi rapporti con gli insegnanti a scuola bene o male sono sempre stata educata io me ne sto sulle mie non sono una che fa né la paracula né la micona però sono sempre stata educata e gentile mi sono sempre trovata bene mi sono sempre trovata più o meno con tutti gli insegnanti con questa non c'era verso questa è la proprio cattiva antipatica di suo faceva anche battutacce del cavolo agli alunni che poi voglio dire alle superiori avevamo 15, 16, 17 anni sta brutta rimammita alta un metro e venti che si permetteva di farci battuta a noi su come eravamo vestiti a sfotterci che dovevate vederla sembrava una bambolina mongola con la faccia a paglietta mi sta antipatica ancora adesso la vedessi ancora adesso gli sputerai in faccia che ho quasi 50 anni da quanto era proprio cattiva come persona una brutta persona e la sua materia non mi entrava presumibilmente perché proprio non digerivo lei e quindi come lei attaccava a parlare io proprio svarionavo da un'altra parte così in prima superiore mi vende la fantasia di fosse mai che becco qualche entità francese che magari mi dà una mano con sto schifo di materia niente non accadde io ci tentai disperatamente anche con la mia guida Maria che in passato all'elementare mi aveva aiutato in qualche compito in qualcosa niente anche Maria non si faceva sentire quando si trattava di francese secondo me la prof stava sulle palle anche a loro perché è impossibile e lì poi finirono bene o male gli aiuti che mi venivano dati in compenso peggiorò la situazione a livello di storia nel senso che io amo la storia ho sempre amato come materia la storia storia epica erano materie che mi hanno sempre affascinato e peraltro poi alle superiori avemmo per un anno un professore di italiano e storia una persona stupenda si chiamava Mario Rossi ed era lui era archeologo come titolo di studio però non lavorando in nessuna equip aveva cominciato a insegnare appunto alle superiori era una persona che la storia te la faceva amare la mitologia poi non ne parliamo la raccontava come se fosse cicerone in piazza a me già piaceva la materia sentirla raccontare con quel pathos e con quell'enfasi mi faceva estremamente piacere infatti era una delle poche lezioni che seguivo proprio alla lettera senza nemmeno distrarmi dalle animelle o da altre voci e cose varie perché mi piaceva proprio sia la materia e sia come la spiegava questo prof però con storia ancora di più che con le altre materie c'era sempre l'animella di turno che o non era d'accordo con quello che stavano spiegando perché presumibilmente alcuni fatti storici che sono riportati sui libri oggi come oggi non so perché non ho aperto né letto i libri di storia per come sono oggi ma per come erano trent'anni fa molte vicende presumibilmente non erano state scritte o ipotizzate nella maniera corretta perché ogni tanto c'era qualche animella passata che si incazzava come una iena cominciava a protestare dicendo che non era così perché era andato in questo modo in quell'altro modo e via dicendo questo su fatti storici di portata diciamo di conoscenza elevata tipo che ne so la salita al trono di Napoleone primo la presa della Bastiglia piuttosto che il periodo di Enrico VIII il periodo di Re Giorgio e via dicendo ora quando le animelle parlano in maniera telepatica non esiste una lingua non c'è un linguaggio per cui ci si comprende a prescindere anche col defunto alieno ti capisci perché la telepatia non ha lingua quando invece ti parla a voce parla nella lingua che si ricorda di aver usato e quindi ti capitava l'animella tutta incazzata che magari parlava in francese quell'altra che parlava in spagnolo quell'altra che non capivi che cacchio di lingua stesse parlando poi magari era indonesiano non lo parlo e quindi non so che cavolo di lingua stai parlando era un macello sembrava un comizio durante le ore di storia ma questo anche con gli altri insegnanti e non soltanto con questo qui però con questo mi piaceva piacere ascoltare proprio la lezione in sé e come la raccontava e puntualmente veniva disturbata resti qui che si incavolavano come delle bisce indiane perché magari aveva sbagliato il mese perché magari aveva sul libro magari c'era scritto che ne so che i nobili erano stati buttati giù dal popolo e magari passava la canimella di qualche nobile tutta infervorita che non è vero che noi eravamo contro il popolo colasso giù e faceva comizio e quindi diciamo che se una volta ogni morte di papa c'è stato in qualche materia come appunto per esempio in inglese qualche aiuto per me che li sentivo a livello proprio di studio la maggior parte delle volte sono sempre stati solamente degli emeriti disturbatori anche perché ripeto quello che dico sempre i defunti non hanno la necessità di raccontarvi i problemi del mondo o come salvare la terra non gliene frega la mazza loro vogliono chiacchierare è un po' come entrare in un bar e mettersi a parlare di quello che ti pare se niente niente si accorgono che tu li senti o li vedi è finita non la piantano più di chiacchierare di parlare manco fossero davvero in bettola bersi la pinta di birra e ora dopo 46 anni di esperienza maturata ho imparato molto a livello proprio occulto a girarmi e dirgli stai zitto e finisce oppure direte a dire guardandole anche male ma all'epoca non sapevo che bastava di stare zitti per farli stare zitti e quindi mi subivo sto casino globale con annesse note perché pensavano che fossi distratta a guardare le farfalline per aria perché questi volevano intervenire nelle lezioni nei discorsi nelle faccende e via dicendo anche questa è una testimonianza di una vita forse non dell'infanzia ma magari dell'adolescenza scolastica potrei intitolarlo così testimonianza di una vita adolescenza scolastica di una medium oppure esperienze scolastiche di una medium mi piace come titolo anche questo fa parte della medianità anche a volte il non riuscire a prestare attenzione al mondo materiale è che è poi lo stesso motivo che vi ho raccontato sulla questione della patente sull'altra testimonianza della vita per la quale ho smesso di guidare ho smesso di guidare da oltre dieci anni proprio per lo stesso motivo perché non puoi non ce la fai a prestare attenzione alla strada se ti vedi gente passare gente in macchina che si chiacchierare via dicendo non riesci a mantenere quel tipo di concentrazione ovvio ripeto non succede sempre non è che vivi dentro a un mercato orionale però succede la media mia dell'entità che passeggia che mi parla che mi guarda che mi vede che lo vede e si spaventa lui o altre cose del genere è di almeno tre, quattro, cinque volte a settimana a volte dura anche per un'ora a volte roba di tre minuti e sparisce ma se stai guidando diventa rischiosa la cosa e se sei in un posto dove devi prestare attenzione come a scuola bastano tre minuti e te ti distrai i sfarfalli perché ti distraggono a prescindere e poi spiegaglielo in casa ai genitori tuoi che bene o male ti dicono che non è vero e che te ne approfitti e che sei tu che lo fai apposta e che non ne voglia di fare un tubo e via dicendo perché ma non li biassimo è normale se tu una cosa non la vedi per te non esiste e di conseguenza considerando poi appunto un figlio o una figlia che può andare male in qualche materia la prima cosa che pensi è lo fai apposta è una scusa quando poi il figlio o la figlia è adolescente ancora di più perché c'è già comunque il conflitto a prescindere con l'adolescenza e quindi è diventato era tutto più complicato se cercavi di fare bene non ce la facevi se cercavi di fregartene e fare male non ce la facevi lo stesso non sapevi più che pesci prendere per fortuna poi l'adolescenza è passata tutto il resto però è rimasto e ormai ci ho fatto il calo come le scimmie come i macacchi non vi dico dove tanto sapete dove ce l'hanno i macacchi però ripeto ora a 46 anni la cosa la gestisco in maniera diversa a parte il discorso patente che o rinnovo ma non guido e non ci penso neanche ma il resto lo gestisco abbastanza bene se devo stare attento ormai faccio come col figlio perché con mio figlio quando mi incazzo per qualcosa non grido non urlo non faccio lo guardo malissimo e in 3 secondi è pietrificato a prescindere con le entità faccio la stessa cosa quando rompono troppo le zappole mi giro male li guardo malissimo 3 secondi anche loro si congelano e la pianta non rompere gli zebedei fine di testimonianza di una vita vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social che frequento Bazzico Gironzolo vi ricordo che un po' più sotto ci sono invece 3 o 4 link quelli più conosciuti delle invece mille mille librerie che tengono in venite i miei libri che ad oggi sono 5 e prima o poi riuscirò a tirare fuori anche il sesto lo so che dico sempre la stessa cosa ma ancora non sono più riuscita a continuare manco una riga e vi ricordo anche che stasera sull'altro canale quello del nano medianico ci sarà comunque il video suo del nano che li fa invece apposta proprio per far scoprire meglio questo mondo e farlo comprendere meglio far capire anche come atteggiarci sia tutto proprio a bambini e ragazzini che come lui sono dentro a queste situazioni vi do la buonanotte e se tutto va bene ci sentiamo domani sera peraltro domani sera ho la rubrica col nano medianico del sabato sera ciao ciao